...portato Stolfo, probabilmente lasciando il suo su quel satellite, ecco Orlando, ti restituisco la logica, la mazionalità, la voglia di ascoltare gli altri, la voglia di aprirvi al mondo, vai Orlando, non sei più pazzo, non lo sei più, sei lucido, ciao, sei lucidissimo, guarda le luci che freddo fanno, vai! ...tutta questa mazzerina per fare una domanda da Stolfo, da dove vieni a Stolfo? Io vengo dalla Dio! Io vengo dalla luna, che c'è la mia traversa, e ho una fortuna, la paura per una cultura diversa, che su di me è diversa, la sua fortuna perversa, arriva appunto che quando mi mette stessa, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si è formato un pensato toccato sul buscotto, non ha capito che sono disposto, a stare sotto, ma solamente quando ho poco! Tu non ho paese, sei diverso, impossibile avendo da l'universo, la rotta o perso, che vuoi che ti dica, tu sei nato qui, ma che qui ti ho fatto un mito, ma per me, di che saresti il migliore, fammi il favore, compare, qui non ci appare che tu possa meritare, sei confinato ma nel tuo stato mentale, che sono lucidissimo e pratico che le altre si pare! Io non sono me lo, io non sono falan, io non sono tío, io non sono tanto Pio, io機, io vengo dalla luna, io sì, io vengo dalla luna ! Io non sono s kidneys, io non sono forts, io non sono masso, io non ti porto i hier praying, no coltuna, io sì, io vengo dalla luna ! Grazie a tutti!